You're awesome! Perché stai costruendo la cappella, reverendo? Perché siete tutti dei terribili peccatori! Da quando? Da quando io sono qui! Ora afferrate una pietra o andate all'inferno! Oh, forse io non so un granché su Dio Ma devo dire che abbiamo costruito una gran bella gabbia, ragazzi Mi piace? Questi sono da parte di bambini Finalmente tutti abbiamo un posto di preghiera Io frequento corso di gioco d'azzardo, cosa molto seria Quante volte dobbiamo andare in chiesa per evitare l'inferno? Ogni domenica per tutta la vita, capito? Stai scherzando, vero? Niente male, Lisa Junior Ma la cosa di Dio sta su oltre la luna Perciò se vuoi che ci ascolti Bisogna aumentare il volume Mi senti, signore? Overlavora per te! Io sono il più grande missionario di tutti i tempi! E' la fine! E' la fine! E' la fine! E' la fine, lo so! Lo sapevo! Quell'omer si ficca sempre nei pasticci Se siete uno di quelli a cui piacciono le sue avventure O per meglio dire disavventure E' il momento di essere solidali Certo, questa tv guadagna una fortuna con la pubblicità Ma non abbastanza, sembra Siamo ben lontani Perciò se non volete che programmi grossolani e popolari Spariscano dal video Vi prego Telefonate subito Pronto, parla Mardoc Diecimila dollari Hai salvato il mio network! Non sarebbe la prima volta?